Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di maccheroni Formaggio emmental Prosciutto cotto Burro Besciamelle parmigiano grattugiato Preparazione Cuocere in abbondante acqua salata la pasta per 5 minuti Conditela con burro e formaggio grattugiato e unitevi dadini di emmental e di prosciutto cotto Sistemate la pasta in una teglia imburrata e coprite con abbondante besciamella Fate gratinare in forno Il piatto è pronto Buon appetito